Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto in questo nuovo videocorso estivo. Siamo a fine agosto, una sorta di back to school, sempre alla scoperta di questo splendido insieme di applicazioni online a base di software libero, la Digital, sito di riferimento ladigitale.dev. Sul mio canale trovate proprio una playlist con i precedenti videocorsi sulla Digital, ma quest'oggi venite insieme a me, scorriamo verso il fondo la home page della nostra suite, del nostro insieme di applicazioni e andiamo a scegliere DigiWords. A che cosa serve per creare con facilità nuvole di parole? Cercate sempre qui sul mio canale i miei videocorsi su Mentimeter, su WordArt, perché ho già trattato diffusamente questa utile tecnica didattica per il sostegno, per il brainstorming, per l'inclusione e molto altro. Andiamo a cliccare su Utilise, che sapete essere, per chi tra voi mi segue con affezione, una sorta di ok. Andiamo a scegliere in alto a destra se è necessario il pulsante FR o N per avere la interfaccia in lingua francese o inglese, nel mio caso inglese. Clicco sul pulsante azzurro Create a Word Cloud e vado a riempire gli spazi indicati. Il primo spazio in alto è il nome del progetto. Scriviamo estate, dai, rimaniamo a tema. Dopodiché la domanda segreta e la risposta segreta servono solo per successive rielaborazioni dello stesso progetto. Inseriamo questi dati, ma non sono obbligatori. Vado quindi a cliccare su qual è la mia parola preferita e come risposta digito banalmente estate. Il clic sul tasto azzurro Create mi porta qui. Come vedete la nuvola di parole già è presente in anteprima. Molto semplice la sua composizione. Sposto il mio faccione ed ecco qui. Colonna di sinistra. Partiamo dall'alto e parto dagli spazi più a sinistra. Quindi digito le parole che comporranno la mia nuvola. Scelgo nella colonna Size la grandezza della o delle parole stesse. Scelgo quante volte dovranno essere ripetute tali parole e poi il colore volendo della parola. Quindi in realtà c'è molta più artigianalità, manualità totale rispetto ad esempio a WordArt o a Mentimeter. Ecco simuliamo un pochettino la mappatura di parole che hanno a che fare con l'estate ed allora vado a digitare proprio vacanza. Globalmente ecco un periodo un pochino più di riposo. Poi vado a digitare sole, poi vado a digitare mare, vado a digitare montagna, vado a cliccare sul più perché per molti è anche comunque periodo di lavoro. Poi vado a uniformare la taglia cioè la grandezza Size e vado agendo sui cursori a dire ad esempio che io voglio una grandezza 3 per tutte le parole e che tutte le parole le voglio ripetute una sola volta. Ecco qui che ho agito sui cursori. Un clic su View in un attimo confermerà e genererà la mia Word Cloud. Dopodiché posso scegliere dalla tendina subito sotto il font quindi il tipo di grafia al corpo del carattere e in realtà come vedete ho scelto Open Dyslexic che è un tipo di font di carattere indicato particolarmente per la dislessia, per i VSA. Sotto ancora nello spazio Colors ho i temi quindi insieme dei colori predefiniti, fermo restando che possiamo agire sui cerchi scegliendo il singolo colore per la singola parola. Ancora sotto le Directions in francese, le Directions in inglese mi permettono di orientare la mia Word Cloud agendo su differenti tipologie e poi ancora sotto ho il link di riferimento consultando il quale si visualizza questa nuvola di parole o il pulsante per ottenere il QR code che in quadrato porterà a questa Word Cloud. Se debbo fissare il mio lavoro ecco invece che vado a cliccare su Export e davvero in un attimo in formato immagine avrò la mia nuvola di parole esportata sul mio dispositivo e dico proprio dispositivo perché può essere personal computer ma può essere tablet ma può essere altro dispositivo mobile. Una risorsa quindi la vediamo facilissima da utilizzare DigiWords inserita nell'insieme di applicazioni della Digital consigliata per ogni ordine e grado di istruzione e che può davvero essere una risorsa ottima per iniziare l'anno scolastico alle porte, per l'accoglienza alla scuola dell'infanzia, per la mappatura delle competenze o dei concetti o per contestualizzare un argomento negli altri ordini di istruzione e di scuola. Per cui dai il caldo sta forse chi lo sa scemando magari sotto l'ombrellone in montagna o ovunque vi troviate spero di farvi compagnia per qualche minuto e vi farò compagnia insomma anche a settembre se riconsulterete questo videocorso oppure consulterete i nuovi che sono in produzione e stanno arrivando. Ancora un salutone a tutti e a tutte dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!